Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria, studia recitazione con Bruno De Stefanis e Claudio Risi. Prima di intraprendere la carriera di attrice, lavora in alcuni fotoromanzi di Grand Hotel, come testimonia al pubblicitaria e in alcuni programmi televisivi, come Valletta in acqua calda. 1992, regia di Gino Landi, come figurante speciale nel Grande Gioco dell'Oca. 1993-1994, regia di Gioselin, entrambi trasmessi da Rai 2. È infine come modella nel programma, per la prima volta in onda su Canale 5. Beato tra le donne, 1996, nel 1998 debutta come attrice nella miniserie TV Ritornare a volare. Regia di Ruggero Miti, tra il 1998 e il 1999 cura i collegamenti esterni di Goleada. Trasmissione sportiva condotta da Massimo Caputi e la Weber su TMC. Nel 2000 conduce su Rai 1, insieme a Gigi Sabani e della Weber, 7x1 e poi, insieme ad Amadeus, in Bocca al Lupo, programmi ideati e diretti da Gioselin. Dopo queste esperienze di conduttrice, si dedica esclusivamente alla recitazione, entrando nel cast della sopopera di Canale 5, Vivere, dove dal 2001 al 2006 è Nina Castelli, ruolo grazie al quale nel 2005 vince la telegrolla d'oro, come miglior attrice di sopopera. Nel 2009 è nel cast di Fiore di Cactus in giro per i teatri con Franco Castellano ed Eleonora. Giorgia ha un figlio, Lorenzo, nato nel 2005. Giorgia ha un figlio, Lorenzo, nato nel 2005. Giorgia ha un figlio, Lorenzo, nato nel 2005.